Ogni età. Ho letto che l'espressione la bellezza dell'asino deriva dalla locuzione francese la beauté dell'age, cioè la bellezza dell'età. In italiano il termine age è stato sostituito da asino per indicare la bellezza propria della giovinezza. Perché? Commento. Perché i più non sanno che ogni età rappresenta un passaggio evolutivo e quindi ha una sua intrinseca bellezza e necessità.